Dire che 9.000 migranti rappresentano una gestione ordinaria, decisamente no. Tra l'altro non si dica in giro che il Veneto non è regione ospitale, visto considerato che la nostra regione viene riconosciuta a livello internazionale, non solo nazionale, per il modello di integrazione. Non è un caso che ci siano 550.000 persone che ci sono integrate in Veneto, hanno un progetto di vita in Veneto, che hanno trovato ovviamente modo di migliorare le loro condizioni di vita. Sono i nostri nuovi Veneti che abbiamo, che rappresentano più o meno il 12% della popolazione, dei 5 milioni di Veneti. Dall'altro c'è da dire che oggi, con questi numeri, con queste 9.000 persone, noi abbiamo raggiunto i livelli massimi di sostenibilità. Oltre non possiamo più andare.